Si chiude a Cirignola, nel Foggiano, la campagna elettorale per il valotaggio delle amministrative 2015, di fronte agli unici due candidati alla creta di sindaco, Tommaso Sgarro per il centrosinistra e Franco Metta per il movimento politico alla Cicogna. Le due settimane di campagna elettorale sono state gratulizzate da velenosità da parte dei due contendenti, specialmente da parte del movimento Cicognino, che ha avuto l'occasione di far sentire la sua voce, mettendo in evidenza accuse, a volte intollerabili, contro il candidato dell'altro stiramento e contro i giornalisti. Di tutt'altro tenore, invece, la campagna elettorale di Sgarro, il quale si è mantenuto sempre sulla difensiva. Le urne si apriranno domenica alle 7 e chiuderanno alle 23. A differenza del primo turno, stavolta lo scrutinio sarà veloce e l'elezione del sindaco avverrà intorno alle 1.30 della notte.